Com'è Pia? E' delizioso E' delizioso? Questa qui è la cheesecake, quella che ho preso ieri a Lidl E per Pia è delizioso Mi ero dimenticata la parte più importante, la carne Sto preparando uno, prima ho dato una pulita ai fornelli che erano super super sporchi E adesso sto andando a preparare lo spezzatino per cena Perché siccome dovrò andare a portare Giorgia ai pop E così almeno Maurizio ha già la cena pronta per far mangiare i bambini E intanto sto guardando il video di Nicole E anche delle mie... Come si dice? Collaboratrici Grazie, ma non è proprio collaboratrici Vabbè, di tutte le altre ragazze che hanno collaborato con me il vlog in time Ma qui ne parliamo poi dopo Adesso devo andare a preparare assolutamente lo spezzatino Buonasera Adesso tra poco mi faccio vedere Ma volevo farvi vedere com'è bello Illuminato di notte In realtà non è niente di che È il parco che c'è sopra la stazione da Quiterme Sono qui che sto aspettando Giorgia che è andata ai pop E lì sulla destra c'è il castello Ed è proprio bella questi colori, questi lampioni Boh, mi piaceva E quindi ho detto inizio questa clip Facendo prima vedere fuori quello che vedo io Adesso vi giro e purtroppo dovrete vedere me Allora, eccomi qui Oggi è stata una giornata un po' così Ho fatto qualcosina però Non tantissimo in realtà Io più che altro volevo Ringraziare tantissimo tutte le ragazze che hanno collaborato Con me al progetto dei vlog in time Che sono finiti ieri E' stato bello E' stata una bella collaborazione Ci siamo confrontate Abbiamo parlato Abbiamo anche tirato fuori nuove idee E questa cosa qua mi piace tantissimo Perché il concetto che avevo io di collaborazione Era quello di Unire le forze e aiutarsi Quindi se magari una persona è più competente Su un argomento di un'altra Aiutare anche quell'altra in quell'argomento lì Che possono essere Comunque YouTube sapete che è tutta una questione anche di Girare i video, montare i video, organizzarsi Anche per le uscite Ci sono tante cose dietro Anche capire qual è il momento migliore Per pubblicare il video Tantissime cose E ci sono persone magari un po' più esperte Che magari sono in questo mondo Da molto più tempo di noi Perché io sono già a due o tre anni Che sono su YouTube Però c'è tipo Maria Che è più tempo che è su YouTube Quindi capite che magari lei ha più esperienza Quindi ci può dare più consigli Ed è bello secondo me scambiarsi questi consigli Perché secondo me è proprio importante Cioè la collaborazione nasce proprio per aiutarsi Per collaborare Per cercare di aiutarsi A fare sempre meglio Perché comunque io ho visto per esempio Seguo i video di Paolo YouTube E tutti i suoi consigli mi hanno aiutato molto Anche nella crescita del canale Poi so benissimo che ci sono canali Molto più interessanti E quindi la gente magari preferisce Guardare loro piuttosto che me Anche magari per quanto riguarda Le pulizie eccetera eccetera Purtroppo Il mio canale è basato Cioè non è che loro non sono basati su quello Sia chiaro Però il mio canale è basato Sulla quotidianità E sulle difficoltà anche di una famiglia numerosa E Tra tutte queste ci sono anche quelle difficoltà Che invece di avere Cioè che ha anche la persona in sé Quindi come vi ho parlato Di problemi che ho avuto io Poi si passa ai problemi comunque finanziari Che sono Marginali Perché comunque noi Finora siamo sempre andati bene Siamo sempre riusciti a fare tutto E ragazzi Ai bambini Non è mai mancato niente Certo è Che Bisogna stare attenti Magari fare un pochettino più di attenzione E magari cercare qualche metodo in più Per riuscire a risparmiare Mentre invece magari c'è chi Può non farci tanto caso C'è chi invece magari deve stare un pochettino più all'occhio A come spende E così via A tal proposito Ho trovato un'applicazione molto interessante Che devo ancora provare E che prima di parlarvene Di farci un video dedicato Quindi Presto arriverà un video pazza per la spesa Io vi avviso già E prima di fare quello Voglio provarla una volta io Per vedere se è una cosa veramente seria E se quindi posso consigliarvela In più Unito a questo Inizierà anche Una nuova rubrica Purtroppo il mio problema più grosso E proprio il più grande di tutti È la costanza Infatti Gli ultimi mesi così Di questi qua I primi giorni di febbraio Che erano ancora con lo stipendio di gennaio Io ho smesso di scrivere E quindi adesso Dovremo poi riprendere E fare Questo qui Febbraio Marzo Tanto lo stipendio dovrebbe arrivare Quindi Devo riprendere un attimino A segnare A tenere sotto controllo È che tante volte Dovrei tenerlo sempre Nello zainetto Così quando sono in giro Me lo scrivo subito Perché è il mio grosso Grosso problema E che poi Mi dimentico le cose Mi dimentico di segnarlo Mi dimentico Quindi Siccome lo zainetto è grosso Uno di questi giorni Lo puliamo per bene Perché io Vi lascio immaginare Cosa c'è dentro questo zainetto C'è di tutto Volevo pulirlo con voi E poi Mettere appunto Il cachebo Dentro lo zainetto Con una penna Sempre a portata di mano Così appena vado a fare Questa spesa Perdo due secondi Quando rientro in macchina Per andarla a segnare Perché Se io Non me la segno subito Poi mi dimentico È vero che Pagando col banco Ma te poi rimane Tutto tracciato Però Poi comunque È un casino Quindi Ecco E Niente Io Adesso La smetto di chiacchierare Spero che Questi vlog in time Che sono appena passati Vi siano piaciuti Me lo auguro Me lo auguro Veramente tantissimo E E niente Come diceva Maria E anche Valentina Nel video di oggi No Lo diceva Valentina Nel video di oggi Che Queste collaborazioni Tra canali Non sono finite Vedete E che quindi Presto Ci saranno Magari Delle novità Quindi Rimanete Sintonizzati E E niente E per il momento Vi saluto Lo spezzatino Ve l'ho già fatto vedere Io non credo Mangerò Lo spezzatino Perché Non mi Vogliava Proprio per niente Mangerò Le mie cose Vegetariane Che mi Attirano di più Perché Ho ricevuto Anche una critica Su questa Su questa cosa qui Io non mi sono mai Definita Vegetariana Ho semplicemente Detto Che Nella mia dieta Nella mia quotidianità La carne È presente Non mi Non mi va Di mangiare la carne E che quindi Ci può essere Se faccio magari Il ragù Lo mangio E Però Tipo Lo spezzatino Stasera Proprio No E quindi Per mantenere Un certo equilibrio Prendo la roba Di prodotti Vegetariani Per Andare a creare Di nuovo Quell'equilibrio Visto che non mangio La carne Però tipo Quando andiamo Il giapponese Mangio Se capita Anche il pesce Cotto E E quindi Niente Così Non ci posso fare niente Sarebbe È più facile Secondo me Anche se Non è una scusa Perché so Che se uno Vuole Veramente Lo fa Anche se Abita In un 500 Però Per me È veramente Difficile Stavo comunque Parlando con i bambini Che d'ora in avanti La dieta La spesa Sarà più sana E che quindi Tante schifezze Vuole Che magari Abbiamo preso Non le prenderemo più Neanche Se sono scontate Solo se sono regalate Le prendiamo Che comunque A loro Qualche sfizio Come la bibita Di ieri sera Per esempio Glielo possiamo Anche levare No E Cioè Quella di San Valentino Però se no Che hanno una calamita E si attaccano E se no Una la tiene lei O una la tiene lui E io Questa qua E Maurizio Ha quella Nera Con il cinturino Nero Con il Cosa qui Cordino Cordino Nero E buon Basta Adesso la pianto Di parlare E noi Ci riaggiorniamo Dopo Penso Ciao Allora Sono in camera Come vedete La luce E' poca Perché Maurizio Sta già Dormendo E Le bambine Che adesso Abbassano un po' Questa televisione Stanno per andare A dormire E allora Siccome andiamo A dormire Anche io e Pia Ne approfitto Per salutarvi Per concludere Quel video Per mandarvi Un bacione Se avete visto Anche questo video Fino alla fine E per dirvi Anche Che Se la linea Regge L'orario Di pubblicazione Cambierà E non Non pubblicherò Più il video Alle 14 Ma alle 7 Del mattino E che Così avete Tutta la giornata Poi per guardare Il video Fatemi sapere Cosa ne pensate Sotto nei commenti Vi mando Un bacione gigante E noi ci vediamo Domani Con un nuovo video Ciao 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 Grazie a tutti.